Dopo Lucca, anche a massa, il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha voluto incontrare i protagonisti del piano straordinario per la sicurezza nelle cave, per fare il punto della situazione a due anni dal baro. Un confronto a cui hanno preso parte il procuratore Aldo Giubilaro, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, tecnici regionali dell'ARPAT e dell'ASL, le categorie economiche e sindacati. Tre le novità al centro dei lavori della regione nei prossimi mesi, una legge per il riutilizzo dei residui della lavorazione, l'istituzione nelle province di Massacarrara e di Lucca, di un istituto tecnico superiore per formare i dirigenti del settore estrattivo, incentivi per gli imprenditori che investono. Io non ho nessuna remora a discutere con imprenditori che volessero presentare progetti ulteriori di crescita, di sviluppo, di controllo ambientale, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di assunzioni e quindi anche valutare se è possibile verso questi una premialità riguardo ai tempi delle concessioni. Grazie al piano straordinario soltanto nel 2017 i controlli nelle aziende sono quadruplicati, 885 hanno riguardato 173 cave diverse e 453 i laboratori. Questo vorrei dire che è un ottimo risultato nel momento che stimola e crea le condizioni perché certe cose chiaramente vengono ricondotte ad una maggiore forma di legalità, diversamente da come era stato fino a qualche tempo addietro. Per l'attuazione del piano fino al 2020 la regione ha stanziato complessivamente 3 milioni e 250 mila euro.